Allora per festeggiare la giornata della festa del lavoro vi comunico che sono a casa della famiglia Giacomino e Gaetana Canci, una coca eccezionale e si mangia sempre da lì a quel maccarruna da lì, maccarruna fatta da casa, poi ci sono broccole a Reganata, giri, mi far affogare insalata, millefoglie, come si chiama? I pesetti che sono in dieta senza peselle, cotolette alla fra il diavolo. Comunque per ora compriamo un'occhissa e poi vedremo con l'altro.